Amici Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con tempo stabile ed assolato sulla Liguria per la presenza ancora dell'anticiclone di matrice nordafricana, le temperature in ulteriore rialzo e venti a tratti sostenuti con Mar Ligure mosso specie a largo. Nel dettaglio ora la provincia d'Imperia, Ceriserenio al più velati nel corso della giornata di mercoledì, con temperature in aumento, punte che sfioreranno anche i 31-32 gradi. Situazione presso che analoga anche sulla provincia di Savona, con sole assoluto protagonista e anche qui il caldo sarà in intensificazione. Ceriserenio al più velati anche sulla provincia di Genova, con temperature massime che si aggireranno intorno ai 29-30 gradi. Situazione presso che analoga anche sul Tiguglio, con ampi spazi di cielo sereno, anche qui il caldo sarà in intensificazione con massime che potranno anche sfiorare i 30 gradi. Sullo spezzino sole assoluto protagonista nel corso della giornata di mercoledì, con temperature massime che saranno comprese tra i 29 e i 31 gradi. Ci attende un giovedì con sole assoluto protagonista ancora sulla Liguria, da segnalare un aumento della variabilità solo nella seconda parte del giorno. Le temperature massime saranno in ulteriore aumento, con picchi che sfioreranno anche i 35-36 gradi. I venti in attenuazione. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebi Meteo.